Ok, ciao ragazzi, sono qua con mia mamma, ho giocattato da lei. Allora mamma, ti faccio vedere come è possibile leggere il pensiero realmente. Ok. Questo ci riesci dopo 15 anni e il mentalismo reale esiste. È un dato di fatto, no? Allora, prima di tutto le carte vanno mescolate. Anzi, mescolate anche tu, sprappaglia, mescolate. Questo è per capire ragazzi che sarà tutto reale. Ciò che vedete è quello che io faccio a mini-show. Questa è la lettura del pensiero. Forse non si era mai creata e forse sono riuscita a creare la lettura del pensiero. Eh, speriamo. Ok, va bene? Ok. Ora, altra cosa importante ragazzi, perché possono pensare, stendiamo le carte. E possiamo vedere che sono tutte, non so se si vede bene, vicino, così. Sono tutte carte regolari. Ci sei? Ma non ho. Ok, questo è importante. Chiudi tutto tu, chiudi tutto. Ora, state ben attenti ragazzi. Io non guardo, non vedrò niente. Mamma, io faccio così, e come tu vuoi, mi fermi la carta che vuoi tu. Ok. Stop. Prima, secondo, terza. Terza. Questa. Questa. Guardala. Fatto. Sì, fatto. La posso mettere dentro? Ok. Ho chiuso tutto. Sì. Sei d'accordo che io mi riesco? Tu non hai visto niente, mi riesco tutto io. Io non posso fare niente. Certo. Sembra cosa impossibile. Sì, sì, madonna. Cioè, è impossibile. Ora, solo puoi aiutarmi il pensiero. Cioè, da un mazzo regolare di carte. E come fa a essere? Solo il pensiero mi puoi aiutare. Questa è ora. Tutte carte mescolate. Sì. Tutto mescolato. Nessuno può sapere mai che vai. Sì. Sei d'accordo in questo? Certo. Bene, ragazzi. Quello che voi vedrete, non vi darete una spiegazione logica. Metti la mano sul mazzo. E ora guardami bene. Ok? Dì a me. Non mi dire niente. Rossa nera. Nera rossa. Rossa nera. Nera. 97%. Tu non dire niente. Ah, ok. 96%. Picche, fiori, fiori, picche, picche, fiori, fiori. 99%. Sì. Ora il numero. Ora la figura. Vediamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Jack, donna, re. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Otto, nove, dieci. O un nove o un dieci. Confermi? Sì. Guardami. Sì. Nove, dieci. Nove, dieci. Nove, dieci. Sì. Dieci di fiori. Sì. Signor e signori, ma non solo io ho letto del pensiero, ma togni la mano. E signori. No. No, Stefano, dice di fiori. Questa è la lettura del pensiero reale. Ma se copri bene, ma non ho fatto che ho fatto tutto uguale io. È impressionante, è impressionante. Un'altra cosa, l'ultimo effetto che voglio farti vedere, per concludere la nostra ripresa. Guarda, si imprendono le carte. Giusto? Sei d'accordo? E ora stai attenta. Il seme è il numero. Dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Allora, prima, seconda, terza, quarta, quinta, provo. Questo. Guarda. Mi sta bene? Mettila a me. Sì. Mettila. Ok. Tutto chiuso. Sì. Ora, io ti tiro la cortesia. Per la prima volta, che carta era la tua? Nove di picche. Nove di picche, giusto? Chiaramente, nove di picche, ragazzi. Non è sopra, che non pensi, eh? No. E non è neanche sotto, giusto? Mazzola mescolata, ragazzi. Io non posso sapere niente. Ok? Guarda il capito adesso. Posso anche tagliarli? No. E dove ti picche? Ma dove l'hai preso? No, Stefano. Bravissimo. Io vi ringrazio. Però, bravissimo. Complimenti.